Questa mattina gli amici del Fellini Magazine fanno un volo a Londra dove incontriamo la regista Alessandra Gonnella. Ciao Alessandra e buongiorno. Ciao Francesca, grazie mille per avermi invitato. Che bello trovarti. Come va su Londra? Dacci qualche news? Sta per riaprire un po' il mondo dei cinema, dei teatri? Che cosa succede? Beh sì, devo dire che negli ultimi mesi è stato un po' uno shock, siamo stati noi frozen diciamo, siamo stati frizzati in questo lockdown perché Londra è una città molto vibrante, piena di teatri, cinema, è stato bruttissimo vederla, insomma con le strade deserte, tutto chiuso, locali chiusi, teatri chiusi e ovviamente io lavorando anche in questa industria un po' nella film industry, tanti miei colleghi, tanti miei amici che erano proprio a casa dal lavoro perché non potevano insomma recitare, non potevano filmare, quindi insomma adesso si sta un po' riaprendo e anzi siamo partiti abbastanza col botto perché stanno filmando di tutto a Londra, cioè gli studios americani vengono di continuo, filmano, cercano location, attori, quindi insomma stiamo ripartendo alla grande ecco. Tu sei a Londra, ma tu sei nata a Montebelluna, sei originario di Montebelluno, classe 1985, beata te. 95. Ma 95 sì sì. Dieci anni meno. Esatto, ti fatti più vecchia classe 1995, come si parte da Montebelluna con un sogno di scrivere per il cinema, di diventare una regista? Come è accaduta questa tua avventura nel mondo del cinema? Come ti sei tuffata? Eh, in modo strano perché, cioè nel senso, abbastanza anche improvviso perché non ho coltivato in famiglia questo amore per la creatività per il cinema, perché i miei genitori fanno tutt'altro, insomma fanno dei lavori normali, come si suol dire, quindi sinceramente sono stata io forse la prima della famiglia a essere attratta veramente alla scrittura. Mi ricordo quando ero all'elementare che appunto ogni momento che c'era anche delle ore di italiano che ci insegnavano a scrivere le lettere o i temi, io ero lì che proprio non vedevo l'ora perché scrivere era proprio il momento di gioia, poi scrivevo lettere a amici. Quando ho imparato a scrivere ho iniziato a scrivere lettere a tutti praticamente, o a racconti, storie, insomma, quindi sono partita dalla scrittura. Dopodiché crescendo mi sono appassionata all'aspetto spettacolo, quindi performing arts, quindi ho fatto corsi di canto, danza, chitarra, quindi insomma performing arts che mi permettessero di stare sul palco. C'era però un problema nel senso che più andavo avanti con queste discipline, più mi rendevo conto che forse non ero tagliata per stare sul palco appunto, avevo sempre un po' una gran fifa del pubblico, la cosa la gestivo sempre con troppa ansia, però ero molto brava invece a organizzare, cioè a gestire, a sapere cosa volevo fare, quindi avevo una visione, avevo un programma, un disegno chiaro di quello che volevo fare, ma preferivo che lo eseguissero altre persone, diciamo, e quindi quello è stato il momento di svolta in cui ho deciso che volevo stare dietro le quinte e non davanti, ecco, sul palco, e quindi vabbè, da lì allora ho iniziato a informarmi ovviamente, per fortuna, essendo che sono nata non troppissimo tempo fa, c'era già internet, quindi ho potuto andare online a cercare informazioni, cose così, ed ho iniziato a cercare appunto informazioni su scuole, cosa avrei fatto dopo, dopo il liceo, e poi questo unito all'amore per Londra, che insomma mi ha colpito dalla prima volta che sono venuta qui in vacanza studio, quando avevo undici anni, e ho deciso, ok, quando finisco il liceo voglio trasferirmi a Londra, qualsiasi cosa io faccia nella vita voglio trasferirmi a Londra, e quindi insomma Londra più il cinema, e ho fatto uno più uno, e eccomi qui, ecco. A che scuola ti sei iscritta a Londra? Questo per dare anche qualche consenso ai giovani che come te hanno in questo momento, devono prendere una decisione anche. Allora, mi sono iscritta prima di tutti, prima di tutto alla Central Film School, che era una scuola di cinema di Brick Lane, diciamo che questa è la differenza netta tra, nelle scuole anglosassime, io parlo dell'Inghilterra, non so in America come funzioni, però insomma in Inghilterra, sicuramente la differenza netta è tra le università, quindi dove comunque c'è uno studio più teorico, e ovviamente le film school, che sono scuole di cinema, che potrebbero essere nel nostro paese, penso, equivalenti del centro sperimentale, o comunque scuole molto pratiche, dove impari facendo film, ecco, e dove incontri persone del mestiere, quindi meno teoria, meno storia di cinema, meno guardare film, e più invece scrivere, fare design, costumi, luci, cose, insomma montaggio, quindi discipline strettamente tecniche, pratiche, e quindi questa è la grande differenza, quindi sono andata subito in una film school, la Central Film School, dopodiché però ho cambiato, per motivi personali ho cambiato, sono andata alla Mets Film School, che è invece un'altra scuola, che è basata a Lillian Studios, quindi dove facevano le commedie britanniche, insomma è dei tempi d'oro, quindi insomma anche il fatto che questa scuola fosse dentro degli studios, dentro degli studi di posa ovviamente era un grande vantaggio, perché potevamo usare questi studi di posa per fare i nostri film, le nostre proprie costumi, incontravamo persone, Gary Oldman che veniva a girare lì i film, cioè nel senso è proprio tutto un altro ambiente, tutta gente di cinema che va e viene quando tu vai a scuola la mattina, quindi è un'altra cosa, un altro ambiente, dopodiché dopo aver fatto, questa è stata la laurea, in pratica il filmmaking, ho fatto la specializzazione, la specialistica alla National Film and Television School, che è un'altra scuola, e questa è veramente la scuola nazionale di cinema, quindi sarebbe veramente l'equivalente del centro sperimentale, questo è stato il mio percorso scolastico, scusate se è stato lungo, ma... No, no, e questo è molto importante anche perché oggi appunto come dicevi tu sul web, i tuoi giovani aspiranti colleghi per diventare registi o fare un percorso, possono cercare informazioni e sappiamo dell'eccellenza delle scuole che tu hai praticate, grande eccellenza che ti hanno portato poi a dei risultati fantastici, perché io ricordo a tutti gli amici che ci stanno seguendo di andare a cercare un tuo cortometraggio che ha ricevuto il nastro d'argento come miglior cortometraggio nell'edizione passata che si chiama Cup of Coffee with Marilyn, tutto girato a Londra, sei giorni, cinque giorni interamente girati a Londra, e come è nato questo tuo progetto, questo tuo team ma anche straordinario di collaboratori che hai avuto? Sì, è un'idea che ho iniziato a coltivare durante appunto il mio percorso di studi, quindi mentre facevo i miei compiti diciamo scolastici, i miei progetti scolastici, magari diretti anche da altre persone, ero lì che ovviamente nel mio free time invece pensavo ai miei progetti, ovviamente i miei progetti personali, e ho iniziato quindi due anni prima del 2019, quindi parliamo del 2017 più o meno, avevo iniziato a pensare a quest'idea del corto su Oriana Fallaci, che ovviamente io ammiravo, insomma sin da quando ero a liceo, ho sempre pensato voglio fare qualcosa su di lei, un omaggio, e ho ripensato a questo aneddoto, questa storia, breve storia, che era contenuta nel suo primissimo libro, I sette peccati di Hollywood, e ho detto ok, questa è una storia che ci sta bene comunque per un cortometraggio, perché poi nessuno conosce questo aspetto della vita di Oriana, molto, gli anni proprio giovanili, è molto comica, molto divertente, cioè si presta benissimo per una storia breve, quindi ho detto ok, faccio questa, e da lì la prima cosa che ho fatto ovviamente, sapendo che si trattasse di un libro, e di una persona anche molto famosa, quindi non è che potevo proprio farlo passare inosservato, ho chiesto ovviamente subito i diritti, insomma per la questione dei diritti, quindi mi sono mossa in quel senso, ho chiesto aiuto alla Rizzoli, poi invece ho trovato il nipote di Oriana, che lui è diciamo l'unico erede di Oriana, insomma, che gestisce tutta questa eredità grandissima di sua zia, e lui fin da subito si è affidato e mi ha detto ok, vai, mi sono presentata come una grandissima fan, la fan numero uno, diciamo, di sua zia, e quindi lui mi ha creduto e mi ha detto ok, va bene, vai tranquilla, insomma ti do la mia benedizione, vai e fai quello che devi fare, ovviamente lì per lì, siccome mi sono presentata anche come una studentessa di cinema, sembrava che fosse una cosa da nulla, insomma sembrava che fosse un cortometraggio così amatoriale, diciamo si può dire, e quindi insomma nessuno si aspettava nulla, nemmeno io in realtà, ho detto vabbè, io ho questa idea, adesso vedo come farla, come metterla in piedi, e poi andando avanti ho maturato questa idea di voler fare comunque una cosa che la gente vedesse assolutamente, quindi volevo che interpretare Oriana fosse un volto noto, questa è stata un'altra grande decisione importante che ho preso, ho pensato non posso appunto fare passare inosservato questo progetto, perché sennò è tutto un dispendio di energie e di tempo per nulla, perché poi nessuno lo vede, nessuno sa quello che ho fatto, e quindi rimango dove sono, quindi devo step up, devo fare qualcosa che mi faccia notare, e quindi insomma da lì ho iniziato a cercare anche l'attrice, e avevo fatto diversi tentativi anche con altre, con attrici note italiane, e poi quando ho trovato invece il produttore Diego Loregian, che è un altro ragazzo comunque, anche lui giovane insomma veneto, lui mi ha aiutato ad arrivare a Miriam, a Miriam Leone, e quindi lei subito ha detto sì, si è lanciata moltissima, era molto entusiasta, cosa che io non mi aspettavo minimamente, e quindi da lì poi abbiamo aggiunto, poi siamo arrivati a Francesca, sempre grazie a Diego, insomma siamo riusciti a parlare con Francesca, anche lei era molto entusiasta di voler fare una colonna sonora, che non aveva mai fatto prima, sinceramente lei. Francesca Michelin, Francesca Michelin, sì scusate, Francesca Michelin. Un'altra eccellenza, no, del nostro paese, che ha avuto un grandissimo successo anche in tutto il mondo, e quindi ci sono dei brani inediti nel tuo corto, invito tutti a guardarlo fino all'ultimo secondo, il tuo cortometraggio, perché nei titoli di coda hai messo delle chicche, cioè delle foto molto belle, con una carrellata, delle grandi interviste che ha fatto appunto, Rianna Fallaci nel corso della sua carriera, dove c'è anche un incontro con lo zio Federico, Federico. È vero. Ma tra l'altro stamattina, quando pensavo a questa nostra chiacchierata, e pensando al tuo cognome, ho detto, ma questo cognome è di casa per me, ma dove ho sentito questo cognome, Gonnella, Gonnella, e mi viene in mente il prefetto Gonnella, Paolo Vitaggio, che è il protagonista insieme a Roberto Benigni, della Voce della Luna, il mitico prefetto Gonnella, ecco, ma ci avevi mai pensato che era il lui? No, no, assolutamente no. No, no, no. Il nome è nel film dello zio Federico, ma l'hai visto tu la Voce della Luna? Ma in realtà no, scusami, devo fare questa missione di colpa.